Sono venuto a gettare un fuoco su questa terra, non sono venuto a privarvi della bellezza della vita, anzi, se accogliessimo il Vangelo in modo pieno, in modo totale, allora ci accorgeremo della potenza immensa che è incontenuta in queste parole, della luce abbagliante che sgorga dallo Spirito Santo che abbiamo ricevuto, della missione avvincente che è racchiusa nella nostra vocazione. Essere cristiani come Gesù ci vuole è davvero una missione eroica e non dico eroica nel senso che è impossibile, ma nel senso che è capace di manifestare il fuoco che c'è dentro di noi. Io sono venuto a portare fuoco e non tiepidezza, parole che sono vita e verità, non sopravvivenza e compromesso. Sono venuto a portare la pace e non il pacifismo. Gesù viene oggi a dare una spolverata al nostro battesimo. A volte viviamo come se il battesimo fosse una fotografia in bianco e nero, chiusa in un vecchio album fotografico, ma non è così. Se non sai da dove ripartire, allora riparti dal battesimo. Risveglia lo Spirito che ti è stato donato, alimentalo con la preghiera, con l'ascolto della parola di Dio, con la verità, con le opere di carità. La fiamma è stata accesa, e non si spegnerà in eterno. A noi non resta che il compito di buttare legna su questa fiamma.